E' ancora polemica dopo la nomina d'assessore dell'ex segretario del PD, Davide Bruno. Ad intervenire sulla questione, il coordinatore della Lega Battipaglia, Daniele Butrico. Si è consumato l'ennesimo atto scellerato dell'amministrazione francese, afferma. Dopo due anni e mezzo circa, ci ritroviamo un consiglio di persone non elette ma surrogate, una giunta chiaramente di centro-sinistra ed appoggi elettorali per la campagna delle provinciali al centro-sinistra. A questo punto, conclude Butrico, credo che la sindaca debba dimettersi, non rappresenta più la città.